La regione più colpita dal coronavirus è sempre la Lombardia, dove ieri si è però scesi sotto la soglia psicologica dei 100 nuovi contagiati. Su 9300 tamponi processati i nuovi casi positivi sono stati infatti 99, con un netto miglioramento del rapporto tra nuovi contagi e tamponi effettuati, l'1,1% contro l'1,9% del giorno precedente. È ancora alto il numero dei decessi, 32 nelle ultime 24 ore, ma sono guariti altri 507 malati. In questa situazione, con dati sostanzialmente in linea con i giorni precedenti, ha suscitato scalpore ieri l'annuncio dell'avvicendamento ai vertici della sanità regionale, dove il 18 giugno il direttore generale dell'assessorato alla sanità Luigi Cagliazzo lascerà il posto a Marco Trivelli, manager con un passato importante nel settore. Cagliazzo sarà il nuovo vice segretario regionale con il compito di coordinare la riforma sanitaria. Vogliamo appunto cercare di capire cosa sia successo, trovare una verità e giustizia, soprattutto per chi non c'è più. Intanto, mentre protestano e chiedono giustizia i familiari delle vittime per coronavirus nella Bergamasca e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, attacca la regione per avere secretato i dati dei decessi nelle province lombarde, nell'ambito delle indagini in corso sulla mancata istituzione della zona russa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, i PM di Bergamo hanno ieri convocato come persone informate sui fatti il premier Giuseppe Conte e i ministri dell'interno Luciana Lamorgese e della salute Roberto Speranza.